Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, trovate tutte le informazioni nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi un caso davvero molto delicato, quindi mi raccomando se sapete che l'argomento è troppo per voi, fermatevi. Perché oggi parliamo degli ex fidanzati di Pico, non posso dirvi di più, ma sono certa che chi ha seguito la vicenda ricorderà immediatamente questo triste, tristissimo fatto di cronaca. Abbiamo già toccato argomenti simili in questo canale in realtà, ma mai in modo così approfondito. Ma andiamo con ordine. Il tutto inizia il 15 novembre 2012, quando Laura Di Nardi, una ragazza di 19 anni, si presenta al pronto soccorso di Cassino, un comune nella provincia di Frosinone, nel Lazio, per un problema ginecologico. Laura sta male ed è in quelle condizioni da giorni interi. Inizialmente si ipotizza un'infezione all'utero, ma i medici dopo attenti esami rivelano una certa perplessità. Infatti a seguito di alcune analisi a cui Laura si sottopone al fine di escludere malattie gravi o tumori, emerge l'assurda verità. Tutti i sintomi rimandano ad un'infezione da parto. Questo vuol dire che Laura ha messo alla luce un bambino? La ragazza a questo punto non può lasciare l'ospedale se non spiega il motivo per cui al suo ingresso al pronto soccorso abbia negato di aver avuto un bambino. Ma soprattutto ora quella ragazza deve anche rispondere a delle domande. Quel bambino dove si trova? È nascosto da qualche parte? Viene quindi avvisata la famiglia di Laura Di Nardi, così come la famiglia del suo fidanzato, Rocco Mattia. Quando entrambe le famiglie raggiungono l'ospedale la tensione sale sempre di più, tanto che è necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare un minimo la calma. La cartella clinica di Laura dunque viene sequestrata. E si apre un'indagine non solo sanitaria ma anche giudiziaria, al fine di fare chiarezza sul destino di quel bimbo. Gli inquirenti devono indagare su una vicenda dir poco inquietante. Quel bimbo potrebbe essere stato buttato via? È triste pensare a un'opzione come questa, ma potrebbe essere accaduto. L'attenzione degli investigatori quindi si concentra sul contesto in cui è maturato il crimine. Emergono in questo modo ulteriori dettagli. Laura Di Nardi abita a Pico, mentre Rocco Mattia, il suo fidanzato, abita a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Entrambi vivono una vita tranquilla tra pranzi, cene in famiglia e uscite nei centri commerciali della zona. La tragedia matura in un contesto di gravidanza inattesa e ignorata. Attenzione, non una gravidanza non voluta, bensì inaspettata e poi ignorata. In un primo momento durante le indagini, Laura incolpa solo se stessa. Dice che è solo colpa sua, ha partorito da sola e Rocco Mattia, così come i suoi parenti, erano all'oscuro del suo stato interessante. Poi però Laura, cambia versione, inizia ad addossare tutte le colpe a Rocco, lo definisce un fidanzato infedele e sostiene che Rocco era a conoscenza del suo stato. Il punto è che quel bambino, lui, non lo voleva. Al processo si parte da lontano, la prima a parlare è Laura Di Nardi, che sostiene di aver avuto l'ultima mestruazione il 14 febbraio del 2012. Il PM la incalza chiedendole cosa ha pensato di fare. Laura a questo punto temidamente dice Laura continua dicendo che nei nove mesi successivi non ha mai sentito il bambino muoversi. Mai! Si è accorta che ingrassava, ma non ha mai avuto alcun sintomo di gravidanza. Laura non viveva da sola, ma con i suoi genitori e neanche sua madre si era accorta che il corpo della figlia stesse cambiando. In aula spiega anche in modo poco delicato che Laura aveva fatto precedentemente una dieta che le aveva fatto perdere all'incirca 20 chili, solo che aveva poi rincominciato a mangiare tantissimo. Di conseguenza lei non aveva potuto accorgersi di nulla. A distanza di nove mesi, dunque, Laura inizia a stare male. Ha delle perdite di sangue abbondanti e inizia anche ad avere delle perdite acquose. Sua madre ovviamente cerca in tutti i modi di convincerla ad andare in ospedale. Laura però si rifiuta, a processo sostiene che ha sempre avuto un grande timore dei medici. Ma ci ritorneremo su questi punti, a mio parere, salienti che vacillano e non poco. Laura dunque sta male, tanto che sua sorella Veronica, che è sposata e non abita più con Laura e i suoi genitori, si reca dal suo medico di base il 15 novembre per spiegargli la situazione, per raccontargli i problemi di Laura, sua sorella. Veronica, quindi la sorella di Laura, dice al suo medico che Laura non si limitava solo ad avere perdite abbondanti di sangue, ma anche perdite acquose. Il medico si allarma immediatamente e la mette in guardia, dicendole che è impossibile che una donna possa perdere acqua. Quindi la invita a portare sua sorella il primo possibile in ospedale. A quanto pare anche la madre di Rocco, Lucia e sua sorella, Jessica, sono preoccupate perché sanno che Laura non sta bene. Quindi all'ora di pranzo del 15 novembre la chiamano per sapere quali siano le sue condizioni di salute. Stava meglio? Era migliorata? Con questa chiamata scoprono che Laura non sta fatto bene. È così che decidono di raggiungerla a casa sua a picco. Chiamano anche Rocco, il suo fidanzato, che di mestiere fa il parrucchiere, il quale chiude il negozio per raggiungerla. La madre di Rocco ha processo, quindi, spiega che si reca a casa di Laura, a picco, con Jessica e Rocco, i suoi figli. Appena entra in casa di Laura, la madre di Rocco sente una puzza tremenda, lo definisce come un odore di putrefazione e cadavere. È a questo punto che Laura viene portata in ospedale. Il 16 novembre 2012, alle 14.10, i carabinieri ricevono un fax dall'ospedale di Cassino, dove segnalano una ragazza ricoverata il giorno precedente che, molto probabilmente, aveva avuto un parto in casa. Tuttavia, Laura, interpellata dai sanitari, non sa dire dove si è finito il bambino. Racconta qualcosa, ma è molto confusa, quindi ciò che dice risulta, di base, insensato. Il 16 novembre intervengono, quindi, i carabinieri che interrogano Laura. La ragazza racconta di aver partorito in casa il 9 novembre. Quando era nato, lei era sola in casa, non c'era nessun altro con lei, ma da questa sua prima versione emergono dei dubbi. Laura, vi ripeto, dice ai carabinieri che non sapeva di essere incinta ed era sola in casa, quindi ha partorito lì, da sola. Appare strano, però, che Laura sia riuscita a fare proprio tutto da sola. Laura sostiene di averlo riposto in una busta, per poi liberarsene. L'avvocato di Rocco sostiene che, dal giorno seguente al ricovero di Laura, quando ancora nulla era chiaro, le forze dell'ordine avevano già messo sotto la lente di ingrandimento il suo assistito. Le forze dell'ordine, però, in realtà, sostengono di aver indagato a largo raggio anche sulla famiglia di Laura. Laura, ai carabinieri, il 16 novembre riferisce di aver partorito il 9 novembre. Durante il medesimo giorno, Rocco, che aveva dichiarato di non essere neanche a conoscenza della gravidanza, si reca spontaneamente dai carabinieri col fine di fornire un alibi per il 9 novembre. Ma Rocco come può sapere che Laura abbia dichiarato come giorno del parto il 9? Secondo l'accusa, questa è la dimostrazione che tra i due precedentemente c'era stato un accordo sulla versione da dare. In aula, l'avvocato di Laura chiede alla madre di Rocco, Come siete venuti a conoscenza che la signorina Laura aveva detto ai carabinieri che il parto è avvenuto in 9? La madre di Rocco inizia. Il 16 mio figlio è stato chiamato dai carabinieri. L'avvocato alla blocca le dice, no signora, non è stato chiamato dai carabinieri. Voi la sera del 16 vi siete spontaneamente presentati. Lei, suo marito e Rocco. Per dire, il 9 Rocco lavorava. Mi sa spiegare il perché? La madre di Rocco continua, no mio figlio è andato dai carabinieri perché dovevano sentirlo e accompagnò mio figlio, ma entrò solo lui dentro. Rocco dal canto suo dice che nel pomeriggio del 16 i carabinieri l'hanno contattato per chiedergli di passare. Ecco perché si è presentato in caserma. Peccato che il maresciallo dei carabinieri racconti un'altra versione. Rocco si è presentato in caserma con i suoi genitori senza che fosse interpellato, dicendo di non centrare nulla con la storia di Laura. Rocco infatti aveva un alibi per il giorno 9. Stava lavorando. L'avvocato di Laura continua a dire alla madre di Rocco. La mia domanda è semplice. Come avete fatto a sapere dopo un'ora, un'ora e mezza, che la signorina Laura era stata sentita dai carabinieri e aveva detto che il parto era avvenuto il 9? Vi siete precipitati per dire che voi il 9 non c'eravate. Il motivo a me pare più che logico, quindi chi ve l'ha detto? La madre di Rocco ripete, mio figlio è stato chiamato dai carabinieri, i quali gli fecero delle domande. Gli dissero che la ragazza aveva partorito il 9, gli chiedevano dove sta questo bambino, dove sta? I due fidanzati, dunque, si sarebbero accordati sulla versione da dare. Dal momento che le condizioni di salute di Laura avevano reso inevitabile il ricovero e fatto così emergere la realtà. Inoltre, nel pomeriggio del 16 novembre ci sono stati dei messaggi tra Laura e il suo fidanzato Rocco, ma la perizia effettuata sul cellulare di Laura ha dimostrato che di alcuni messaggi era rimasta solo la traccia, ma non il contenuto. Ma come quando sarebbero stati cancellati questi messaggi? Veronica racconta che a un certo punto sua sorella viene trasferita a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni all'ospedale di Frosinone. E proprio all'ospedale di Frosinone, il 17 novembre, Veronica ricorda di aver assistito ad una scena ben precisa. Laura consegna a Rocco Mattia il suo cellulare, col fine di fargli comprare un caricabatterie compatibile. Quel cellulare rimane per più giorni nelle mani di Rocco. Ed è così che alcuni messaggi che aveva mandato proprio lui a Laura spariscono. I messaggi di Laura, invece, rimangono. Gli inquirenti sequestrano e analizzano i cellulari sia di Rocco che di Laura, rendendosi conto che mancano parecchi messaggi sia dal telefono di Laura che dal telefono di Rocco. Secondo la difesa di Laura, Rocco Mattia aveva capito che doveva cancellare i messaggi che lui aveva scritto, ma doveva tenere i messaggi di Laura perché gli conveniva di più. E infatti questi messaggi verranno tirati fuori durante il processo. In ogni caso, la prima versione dei fatti di Laura è questa. Il 9 novembre 2012 si trovava in casa sua, da sola. Si è sentita male, senza sapere di essere in stato interessante, si è diretta in bagno, si è messa nella vasca, rendendosi conto che stava uscendo qualcosa, ha visto un piedino e ha tirato. Questa creatura non ha pianto, quindi Laura dice di averla messa in una borsa della palestra. Gli ha nascosto la borsa della palestra in un sacchetto dell'immondizia che, inconsapevolmente, il padre ha poi buttato in dei secchioni. La versione che Laura aveva fornito, però, appariva alquanto inverosimile. Fin dai primi giorni di dicembre, Laura si assume la responsabilità di tutto ciò che è accaduto. Ma quando scopre che Rocco la sta abbandonando per un'altra ragazza, decide di raccontare la verità. La sua verità. Laura afferma che Rocco non solo era a conoscenza del suo stato di gravidanza, ma che l'aveva fatta partorire. Laura, inoltre, aggiunge che il parto non era avvenuto venerdì 9 novembre, bensì lunedì 5 novembre. E per rendere più credibile la sua versione, inizia a raccontare i fatti dal giorno precedente al parto, domenica 4 novembre. Quando si era recata in un centro commerciale con degli amici. Laura dice che prima di parcheggiare e scendere dalla macchina sente qualcosa uscire tipo pipì. Quindi racconta subito a Rocco la situazione e si è che in bagno con due ragazze, ma non nota nulla a parte il salvaslip un po' umido. Laura esce quindi dal bagno, sono circa le 18 del pomeriggio. E informa Rocco della situazione chiedendogli di portarla al pronto soccorso. Rocco però minimizza, gli dice che sicuramente non è niente di che. Quindi è inutile andare al pronto soccorso. Poi perché dovrebbero andare al pronto soccorso per un salvaslip umido? Laura quando sente queste frasi da Rocco non lo manda a stendere, non lo appende a testa in giù, non gli dice ma sei scemo. No, gli dice ok, io ve lo dico, lo avrei appeso a testa in giù. Laura però accetta, quindi si ferma al centro commerciale per prendere un trancio di pizza e mangiarlo con Rocco e dei suoi parenti. E Laura mentre sta mangiando quel trancio di pizza già afferma di sentire dei leggeri doloretti, delle piccole fitte all'altezza delle ovaie. Che si protraggono per tutta la notte e al posto di sparire, peggiorano man mano che passano le ore. Rocco dal canto suo dice che Laura non le ha proprio confidato niente, non gli ha detto niente quel 4 novembre. Il PM a questo punto fa una domanda a Laura che io mi sono posta fin dall'inizio. Perché non ha chiesto a un suo caro di accompagnarla al pronto soccorso? Perché non l'ha chiesto a sua madre? Laura risponde timida, non so, per quanto mi riguarda quel non so ha parecchio significato. Laura non voleva far scoprire in questo modo ai suoi cari la sua gravidanza, perché a quanto dice lei non lo sapeva nessuno a parte Rocco, il suo fidanzato, che era venuto a conoscenza del fatto ad agosto del 2012, quando Laura stava già al sesto mese. Arriviamo alla mattina del 6 novembre, Laura si alza e non sta affatto bene. I dolori sono sempre più pronunciati, passa dunque la mattinata in casa. Per l'ora di pranzo arriva Rocco, i due mangiano e poi vanno in camera. Rocco insiste per fare le cose, Laura non vuole perché non sta bene. Ma alla fine si lascia convincere, se così possiamo dire. Ora, se le cose sono andate esattamente come Laura ha raccontato al processo, ha subito violenza. Non c'è nient'altro da aggiungere. Infatti dice, avevo male alla pancia, ma lui non si fermava, neanche quando continuavo a lamentarmi chiedendogli di smettere. Questa a casa mia, ahimè, si chiama violenza intima. Laura continua dicendo, Alla fine non ce l'ho fatta più. Mi sono alzata, sono andata in bagno. Mi sembrava di dover fare pipì o qualcosa del genere. Mi siedo dunque sulla tazza, ma non riesco. Da lì decido di mettermi nella vasca. Noto che c'è del sangue che esce. Chiamo dunque Rocco, ma lui tarda ad arrivare. Non ci vuole venire in bagno. Quando arriva gli spiego quelle che sono le mie sensazioni e gli dico, aiutami, perché sento qualcosa che esce. Rocco, stando a ciò che dice Laura, quando vede la situazione le ripete un paio di volte e ristra tranquilla. Lei gli chiede chiaramente di chiamare qualcuno, un medico, un'ambulanza, qualcuno insomma. Ma Rocco non l'ascolta, vede un piedino che spunta fuori e tira. Laura sente un dolore tremendo che a processo descrive come uno strappo. Questo è un gesto davvero terribile a cui è quasi difficile credere. Dopo aver fatto tutto ciò, Rocco dice a Laura, Non ti preoccupare, ci penso io. Dimmi dove hai messo la borsa della palestra. Laura non capisce perché Rocco le stia chiedendo una cosa simile, ma gli risponde, gli dice dove andare a prendere quella sacca della palestra. Rocco quindi torna in bagno con quella borsa della palestra, mette la piccolina in quella borsa e se ne va. Il PM giustamente chiede a Laura, quindi tu vedi che si allontana con la borsa e che pensi? Laura risponde, Forse stava andando a chiedere aiuto. Quello è stato il mio pensiero. Rocco dunque esce. Torna 15 minuti dopo, ma senza borsa. Laura gli chiede spiegazioni, lui risponde, No no, ma tranquilla. Tutto a posto. Ho risolto. Nessuno verrà mai a sapere nulla. Tu, però, devi stare zitta. Il racconto di Laura di base è pieno di silenzi, incapace di verbalizzare emozioni e sentimenti e di conseguenza è difficile capire quanto la ragazza fosse confusa e frastornata, succube della volontà di Rocco oppure sua complice. Rocco in tutto ciò vi ricordo che nega non solo di aver partecipato al parto, ma anche di sapere che Laura fosse incinta. Laura a questo punto continua il suo racconto, dice che Rocco la aiuta a lavarsi, la aiuta a vestirsi e poi escono. Cosa che, a mio parere, è assurda. Laura sostiene che il pomeriggio e la sera del 5 sono andati dai genitori di Rocco. Lui, però, è uscito, mentre Laura è rimasta a casa sua con sua madre. La versione di Rocco, inutile dirvelo, è opposta a questa. Sostiene di essere andato con dei suoi parenti e Laura in un centro commerciale per le 15 del pomeriggio. Sono rincasati per l'ora di cena e poi, verso le 10, 10 e 30, Rocco e sua sorella Jessica hanno riaccompagnato Laura a casa sua. A quanto dice Jessica, Laura stava bene, camminava benissimo, non aveva avuto alcun malessere e aveva cenato con parecchio appetito quella sera. È chiaro che la sorella di Rocco voglia suggerire che quel 5 novembre è impossibile che Laura abbia partorito. Ma perché mentirebbe Laura? Secondo la difesa di Rocco, perché la sorella dell'imputata, Veronica, ragazza ben più determinata, volitiva e astuta, l'avrebbe convinta a dire tutte queste bugie. Come? Beh, dicendole che Rocco aveva una nuova ragazza, un nuovo amore. La sequenza, dunque, è questa. Laura, fino al 29 novembre, nega fermamente a sua sorella Veronica ogni coinvolgimento di Rocco. Il primo dicembre, Veronica riferisce a Laura che Rocco sta chattando e sta corteggiando un'altra ragazza. Dunque, il 4 dicembre, Laura si convince a dire finalmente la verità, o meglio, la sua verità. Cede all'insistenza di Veronica e nel frattempo Laura e Rocco si allontanano. In una chiamata intercettata il 6 dicembre 2012, Laura parla con la sorella. Veronica dice a Laura Tu hai deciso di raccontare la cosa, no? Com'è andata? Il dottore ha detto che comunque tu hai sofferto a partorì. E va bene. Laura risponde Ma io non mi ricordo niente di sto fatto. Veronica ribatte Però che stavi a casa te lo ricordi. Laura risponde Sì. Veronica insiste Sempre dentro al bagno, giusto? A questo punto Laura in imbarazzo dice Oddio, ma perché le devo di a te ste cose? Veronica risponde Eh, Laura, perché ti sto aiutando. Laura a questo punto scoppia a piangere. Quindi Veronica riprende a parlare e le dice Laura Tanto quello è un animale e deve pagare per quello che ha fatto, capito? Quello è un animale. A questo punto Laura dice Allora, io lunedì dopo pranzo quello voleva e mi schiacciava a parte che me lo faceva sempre mi si buttava sempre addosso e mi faceva male sotto. Io ce lo dicevo che mi stava a far male però vabbè lui continuava perché boh non gliene fregava molto. Forse lo aveva capito che era incominciato ad usci. Veronica chiede Vabbè ma ti ha aiutato lui, no? Laura risponde di nuovo Sì Veronica continua Ando stavate? Laura rincomincia a piangere quindi Veronica le dice Lauretta ma non ti preoccupa che io gliele faccio scontà tutte quante queste cose non piangere Tu stavi dentro la vasca e lui tirava? Laura risponde Sì Veronica quindi chiede dove lo è andato a buttà a questo punto? Laura risponde Secchio è uscito non so esattamente dove A questo punto il PM fa una serie di domande bellecite a Rocco e gli dice Lei sa che c'è stata un'intercettazione telefonica che voi avete visto nella quale Laura racconta alla sorella di aver partorito in casa il 5 e racconta che lei l'ha aiutata quindi le chiedo Lei ha aiutato Laura a partorire? Rocco risponde No Il PM continua Ha occultato il corpo? Rocco risponde No Il PM infine chiede Sapeva che Laura era incinta? Rocco di nuovo risponde No C'è inoltre un'altra chiamata tra Laura e sua sorella dalla quale si capirebbe che le accuse di Laura non sono farina del suo sacco bensì concordate con sua sorella Veronica Veronica infatti al telefono dice a Laura Arriverà un giorno che questa storia è finita Vado io in televisione e mi tolgo tutti i sassolini dalle scarpe Laura risponde E vai da Barbara D'Urso Veronica ribatte Eh Vado da Barbara D'Urso a pomeriggio 5 Laura dà manforte a Veronica dicendo che è anche contro la violenza sulle donne Veronica a questo punto risponde Eh 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 Sì Vado a raccontare la violenza subita e faccio vedere le sue foto Dico Eccolo l'essere Laura mi raccomando tu devi di tutto 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 E proprio dopo questa chiamata che Laura cambia versione non ha fatto assolutamente tutto da sola Con lei c'era anche Rocco Mattia La tesi della difesa di Rocco è quindi che Veronica per salvare la sorella e soprattutto la propria famiglia ha indotto Laura ad una confessione falsa E' a questo punto che lo scontro si sposta dai due giovani alle rispettive famiglie Infatti per la prima volta il padre di Rocco testimonia in aula un episodio per dimostrare che il piano architettato da Veronica era già stato preparato prima che sua sorella Laura cambiasse versione Ma perché? Laura ha accusato Rocco il 5 dicembre Il padre di Rocco racconta che il 17 novembre mentre Laura a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni si trova all'ospedale di Frosinone con tutti i suoi cari al capezzale va a trovarla con la sua famiglia ed è lì che scoppiano le discussioni Il padre di Rocco sostiene che la madre di Laura gli abbia detto Guarda mi dispiace molto per ciò che è successo ma tuo figlio non c'entra nulla Intanto a quanto dice il padre di Rocco Laura piangeva sconsolata chiedendo perdono non solo alla sua famiglia ma anche a tutta la famiglia di Rocco Veronica la sorella di Laura dice immediatamente Per me è stato proprio lui anche se Rocco non c'entra niente io gliela farò pagare deve prendersi le responsabilità morali ed economiche perché Laura è la sua fidanzata deve prendersi tutta la responsabilità per i danni che Laura ha subito è a questo punto che arriva la parte difficoltosa perché le due famiglie a questo punto si incolpano a vicenda Lucia la madre di Rocco dice con precisione che la madre di Laura ha tirato indietro la figlia Veronica dicendole stai zitta che qui Rocco non c'entra proprio nulla peccato che in aula si ribalti totalmente la situazione perché la madre di Laura dice che non ha mai detto niente del genere non ha mai richiamato Veronica in realtà Veronica si arrabbiava perché Rocco dava in continuazione versioni contrastanti prima diceva che era presente e che aveva aiutato Laura poi cambiava versione dicendo che lui proprio non era in casa Veronica quindi si incazzava con Rocco perché non parlava chiaro e non diceva le cose come stavano Laura e sua madre inoltre sottolineano che mentre Laura stava frosinone non si era mai messa a piangere chiedendo perdono al limite si è scusata appunto con la sua famiglia i confronti di tal tipo solitamente lasciano i soggetti nella propria posizione ma servono alla corte per fornire elementi utili per quello che viene chiamato il libero convincimento del giudice chi sta dicendo la verità e chi sta mentendo è difficile da capire in una situazione del genere una delle due è sincera entrambe mentono secondo la difesa di Rocco è Veronica che fin dall'inizio aveva deciso che a pagare dovesse essere il fidanzato di sua sorella ma questa tesi si deve confrontare con i seguenti dati Laura viene ricoverata il 15 novembre 2012 a Cassino e inizialmente si pensa a un apparto solo il giorno successivo il 16 novembre Laura confesserà di aver partorito ma era senza vita secondo Veronica la sorella di Laura tutta la famiglia di Rocco Mattia era già a conoscenza sia del parto che della sparizione del bambino sapevano tutto fin dall'inizio dal ricovero di Laura a Cassino tanto che hanno immediatamente cercato di assumere un avvocato quando Veronica e sua madre ancora non sapevano cosa avesse Laura i medici ancora non si erano pronunciati dunque chi poteva aver aggiornato la famiglia della situazione se non loro figlio Rocco vengono a questo punto disposti due confronti partendo da quello fra Veronica la sorella di Laura e Jessica la sorella di Rocco in questo confronto Jessica ripete ma scusa perché non dici la verità non ti metti vergogna che hai pure un bambino Veronica la sorella di Laura risponde io non devo nascondere niente ho la coscienza a posto io ho la coscienza pulita fine del confronto nel processo dunque ci sono due versioni totalmente contrastanti Rocco sostiene di non aver mai saputo nulla non solo del parto ma anche della gravidanza Laura invece afferma che Rocco il suo fidanzato era a conoscenza della gravidanza l'aveva lui stesso aiutata a partorire a questo punto la corte decide un confronto tra i due imputati un confronto che a me ha lasciato a bocca aperta Laura sostiene che Rocco Mattia ha sempre saputo della sparizione del suo ciclo verso settembre quindi due mesi prima della nascita della bambina Laura parla con Rocco le spiega le sue perplessità ma Rocco non le crede perché Laura non sembra visibilmente incinta il giorno del parto Laura ripete che era insieme a Rocco a casa sua in quanto era solito andare a pranzo da lei ogni lunedì dopo aver pranzato Laura racconta che sono andati in camera e hanno avuto un rapporto non troppo consensuale aggiungerei dice che Rocco le faceva male premendo sulla pancia ogni volta quindi Laura gli chiedeva di fermarsi per il troppo dolore quel giorno lui non si è neanche degnato di fermarsi Laura in lacrime in tribunale dice io l'ho pregato più volte di fermarsi ma lui non si è mai fermato mai e mi ha rovinato pure la vita perché chi sta con la sacca sono io non è lui Laura scoppia a piangere chiedono un minuto di pausa e dopodiché il giudice le chiede ma a questo punto com'è andata avanti la situazione Laura con aria risfida risponde ma perché non le facciamo a lui le domande il giudice a questo punto precisa Laura parli con lui parli con Rocco è così che Laura si gira verso Rocco lo guarda e gli dice perché non spieghi cosa è successo tu lo sai perché non lo dici non rispondi mai ovviamente Rocco ribatte ma che devo rispondere Laura si incazza non poco e gli dice e beh allora dimmi chi ci stava con me in casa quel giorno dimmi dimmi Rocco risponde allora io ripeto tutto davanti alla corte d'assise dove stava e cosa stava facendo il giorno 9 e il giorno 5 il giorno 5 e il giorno 9 novembre sono due date chiave per questo processo che Laura in un primo momento aveva sostenuto che il parto era avvenuto il giorno 9 giorno per cui Rocco aveva un alibi solo quando aveva cambiato versione accusandolo aveva spostato la data del parto al giorno 5 Rocco il giorno 5 dice che si sveglia per le 10 alle 10.30 va a far colazione al bar Manzoni e per ora di pranzo va da Laura Rocco sostiene di aver pranzato con Laura con sua madre e con suo padre Laura già interviene dicendo è una bugia erano tutti a lavorare e a casa c'eravamo solo io e te Rocco risponde ma mi fai parlare? Laura ribatte oh se dici bugie no ti fermo e ribatto non sto zi dato che è da tutto il processo che dici cavolate non credi che sia ora di dire la verità? no perché la dovevi dire dall'inizio e ti dirò di più ho sbagliato io stessa a non dire la verità dall'inizio Rocco continua mi devi far parlare perché poi tuo padre come ogni lunedì è andato a lavorare mentre noi siamo rimasti soli a casa con tua mamma tanto che alle 15 ce ne siamo andati al centro commerciale la sera me lo ricordo io Laura stavi benissimo dopo hai cenato a casa con noi e te lo posso assicurare che i miei genitori da quando sono nato non hanno mai detto bugie sono i tuoi che hanno detto bugie e continuano a dirle a questo punto scoppia il putiferio in aula Laura si incazza come una iena e sovrasta Rocco inizia a urlare non provare a parlare dei miei genitori piuttosto guardati i tuoi che sono mezzi zingari finalmente il giudice interviene chiedendo di abbassare i toni era anche ora questa parte del processo devo dirvi la verità mi ha lasciato un attimino basita è chiaro che Laura abbia un carattere riservato di base ma è anche molto fumantino ed è evidente che sovrasti Rocco in tutte le sue affermazioni nessuna esclusa Rocco in ogni caso continua e dice che dopo cena è lui che riaccompagna a casa Laura Laura annoisce e poi chiede e chi ci stava con noi in macchina mentre mi accompagnavi a casa Rocco risponde c'era mia sorella Jessica Laura ribatte e non ci siamo fermati da nessuna parte non abbiamo fatto nessuna sosta ne sei sicuro? Rocco dice no io ti ho portata direttamente a casa poi riprende invece il giorno 9 Laura lo blocca e gli dice no Rocco tu stai già andando oltre sai magari ti viene in mente qualche dettaglio che ti era sfuggito precedentemente quindi ti richiedo la sera del 5 non ci siamo fermati da nessuna parte a prendere una camomilla perché non mi sentivo bene Rocco risponde no me lo ricordo benissimo non mi sono fermato da nessuna parte mi sono fermato sotto casa tua Laura tu sei scesa dalla macchina e sei salita in casa tua nient'altro Laura insiste Rocco io intendo prima sicuro sicuro? non ci siamo fermati da nessuna parte sai abbiamo anche incrociato quel tuo amico Rocco a questo punto si blocca e dice e che amico c'era? Laura risponde ma Rocco io a te non te lo dico se me lo chiedono i giudici non me lo faccio ma a te io non devo dire proprio nulla anzi Rocco dovresti arrivarci tu dovresti ricordartelo da solo Rocco ribatte con me ci stava solo mia sorella Laura arrivata a questo punto si limita ad annuire è chiaro che non sia in suo potere far dire a Rocco la verità ma è a questo punto che entra in gioco il pubblico ministero e in effetti mette in seria difficoltà Rocco perché gli dice senta a questo punto lei mi deve spiegare l'SMS che è stato ritrovato ed è già stato depositato nel quale lei dice a Laura mi dispiace amore che ti fa mare la pancia l'ha inviato lei proprio la sera del 5 perché? me lo spieghi Rocco è chiaro sia stato preso in contropiede perché rimane immobile e non risponde non sa proprio che dire parte dicendo il messaggio del 5 sera il suo sguardo si perde nel vuoto poi riprende eh sì il 5 sera le ho mandato un messaggio a questo punto la difesa di Laura legge chiaramente il messaggio Rocco infatti le aveva scritto amore sono arrivato e sono nel letto caldo a pensare a te che mi manchi comunque mi dispiace tanto che ti fa mare la pancia vorrei stare vicino a te e farti le carezze e a farti passare la pancia comunque spero che ti passi ti amo tantissimo buonanotte e baci Rocco a questo punto dice eh beh sì l'ho inviato io quel messaggio il PM risponde ma io volevo semplicemente sapere come mai se prima stava bene poi le mando un messaggio di tal tipo ma vabbè il giudice a questo punto si rivolge a Laura e le chiede lei lo sa perché le ha inviato questo messaggio Laura risponde eh certo stavo male ci siamo anche fermati a prendere una camomilla in un bar quella sera anche se lui non se lo ricorda il giudice quindi guarda Rocco e gli dice mi spiega perché hai inviato quel messaggio per cortesia Rocco risponde perché era mestruata e quando la stavo riportando a casa a mia sorella ha detto ho un piccolo mal di pancia poi io quando sono tornato a casa le ho mandato un messaggio tra fidanzati si fa Rocco continua dicendo io da martedì a venerdì ho sempre lavorato dalla mattina alla sera e alla sera non sono mai venuto da te Laura perché io in settimana non uscivo mai non sono mai venuto da te perché il giorno dopo sapevo che ci dovevo andare io a lavorare Laura a questo punto aggredisce Rocco dicendo senti bello all'epoca anche io lavoravo chiaro? quindi non ci provare neanche per scherzo a darmi della sfaticata Rocco neanche le risponde e continua con il suo racconto il giorno 9 mi sono alzato alle 7.30 di mattina poi sono andato a far colazione col mio datore di lavoro al bar Manzoni poi sono andato a lavorare dalle 8 fino alle 13 e poi dalle 15 fino alle 20 di sera ero a lavorare io Rocco dunque in questa frase racconta tutto ciò che ha fatto il 9 novembre ossia il giorno in cui a suo parere Laura avrebbe partorito ma Laura non molla e insiste quindi lo riporta alla giornata del 4 novembre quando ora possiamo dirlo Laura ha iniziato a sentire le prime doglie Laura infatti dice a Rocco domenica 4 siamo andati al centro commerciale giusto? e io non ti ho proprio detto nulla tipo che avevo dei dolori Rocco risponde io sinceramente non mi sono accorto di nulla e poi queste non sono neanche cose mie Laura a questo punto giustamente si incazza e gli risponde senti queste sono cose tue e come? e non permetterti di dire che non era qualcosa che interessava anche a te Rocco riprende e dice eh ma se tu dici a me che hai il ciclo ti posso capire anche ma tu non l'hai detto a me Laura lo guarda negli occhi e gli dice ascolta Rocco non mi fai fessa non ti ho detto che avevo il ciclo bensì perdite abbondanti e me lo ricordo benissimo di avertelo detto quindi per cortesia smettila di dire balle a questo punto il giudice invita nuovamente Laura a continuare con il suo racconto Laura dunque dice che per l'appunto il giorno seguente hanno avuto un rapporto cui pregava Rocco di fermarsi ma lui non si fermava fino a quando per l'appunto non si è sentita male ed è dovuta andare in bagno mi sono messa in vasca perché avevo delle perdite e quando mi sono accorta che stavo uscendo qualcosa Rocco dimmi non ti ho chiamato ma tu neanche volevi venire ti ho detto tieni che sto male e tu hai risposto no no non mi va sbaglio Rocco ci mette un po' troppo a rispondere a Laura quindi il giudice si mette in mezzo dicendogli guardi che non può aspettare per rispondere se Laura le fa una domanda devi rispondere immediatamente sì oppure no subito quindi le chiedo io lei il giorno 5 è stato da Laura dopo pranzo avete avuto un rapporto Rocco risponde no non abbiamo avuto alcun rapporto perché l'ultimo rapporto lo abbiamo avuto il 31 ottobre ossia la notte di Halloween il giudice quindi gli risponde bene allora deve essere puntuale quando Laura dice qualcosa che per lei è falso deve dire no non è vero altrimenti non capiamo quello che lei ammette e quello che non ammette Laura quindi riprende il suo racconto e dice io quindi ti ho chiamato dal bagno ma tu non sei venuto fino a quando non ti ho detto Rocco guarda che mi sto sentendo male vieni perché sta succedendo qualcosa a quel punto sei venuto e ti sei reso conto che davvero stava succedendo qualcosa Rocco la guarda e a questo punto risponde questo Laura proprio non è vero Laura ribatte ah no quindi fammi capire tu non hai fatto proprio niente niente ma non ti vergogna di dire una cosa del genere comunque io ti ho chiamato e tu sei venuto ti ho chiesto di chiamare qualcuno ma tu hai detto di no hai detto che ci pensavi tu e hai tirato fuori tutto quello che usciva non te lo ricordi questo Rocco quanto ci metti a rispondermi rispondimi quindi Rocco dai Rocco non te lo ricordi perché ci stai mettendo così tanto a rispondermi Rocco rimane imbambolato a guardare Laura così per poi aggiungere no non è successo Laura a questo punto si lascia prendere molto dall'emozione e con le lacrime agli occhi urla ma almeno di la verità per quella povera creatura me l'hai fatta fuori tu fatti almeno un esame di coscienza e se non lo vuoi fare per me fallo per te per la tua di coscienza che di sicuro non è pulita Rocco di nuovo rimane lì fermo come un pesce lesso è chiaro che non sappia come ribattere cosa dire è palesemente in difficoltà sta zitto e si limita a guardare Laura Laura dunque continua e dice poi sei andato a prendere la borsa con cui facevo zumba l'hai messo lì e sei uscito di casa Mattia Rocco ha tutto ciò riesce solo a rispondere sei bugiarda Laura a questo punto guarda Rocco e gli dice quindi tu mi stai dicendo che non sei mai uscito mai 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 neanche quella volta non sei uscito da casa mia con quella borsa Rocco rispondimi subito ovviamente Rocco è sempre lento non risponde alle domande sembra che debba pensare a una risposta sensata però se sono accaduti dei fatti oggettivi c'è ben poco da riflettere passa così tanto tempo che Laura rincomincia e gli dice Rocco non sei mai uscito a casa mia con la borsa rispondimi Rocco dopo i minuti interi la guarda e dice no Laura ovviamente risponde sì beh facile così no ci hai pensato per mezz'oretta e poi mi hai risposto tu subito devi rispondere quando ti faccio le domande o forse stai pensando al fatto e il rimorso ti sta mangiando piano piano e questa è la verità Rocco Rocco ribatte a che sto a pensare a che sto a pensare a che Laura guarda Rocco e gli dice beh a tutte nessuna esclusa tutte le cavolate che tu e la tua famiglia avete detto durante questo processo a questo punto Laura riprende sollecitata dal giudice il suo racconto è uscito con la borsa a me ovviamente l'ha lasciato nella vasca stavo troppo male quindi sul momento non gli ho chiesto nulla quando è tornato circa 15 minuti dopo gli ho chiesto che fine avesse fatto la borsa ma lui mi ha risposto di stare tranquilla Rocco ovviamente rifiuta la versione di Laura in quel giorno non hanno avuto alcun rapporto non è accaduto nulla di ciò che ha raccontato Laura fino ad ora Laura afferma di essersi recata al pronto soccorso il 15 novembre quindi la settimana successiva al parto perché non ce la faceva più con i dolori e in effetti era stata ricoverata in condizioni gravi ma i medici ahimè non erano riusciti a stabilire con certezza la data del parto quindi Rocco insiste con la sua tesi Laura non poteva aver partorito il 5 perché quella giornata si era svolta in tutt'altro modo alle 15 a quanto dicce Rocco sono usciti e sono andati al centro commerciale di Ponte Corvo rincasando solo ad ora di cena Laura ovviamente risponde Rocco al centro commerciale non ci siamo andati c'eravamo già stati il giorno prima ossia domenica che bisogno c'era di tornarci anche il lunedì è a questo punto che la difesa di Rocco tira fuori il suo asso nella manica costituito dai messaggi mandati da Laura a Rocco il giorno stesso in cui veniva interrogata dai carabinieri e che appaiono in effetti come una vera e propria confessione Laura infatti chiede perdono a Rocco per tutto quello che ha fatto in quei messaggi la ragazza scrive non sapevo di essere incinta l'ho messo in una borsa e l'ho buttato mica mi mettono dentro per quello che ho fatto ebbene è un fatto in questi messaggi non si parla al plurale si parla sempre al singolare Laura però in tribunale spiega questa situazione e dice quei messaggi esistono perché Rocco mi ha chiesto cosa avessi detto ai carabinieri ed io gli ho spiegato cosa ho raccontato gli ho chiesto perdono proprio per i carabinieri ho dovuto raccontare tutto quindi la storia è uscita fuori Laura sostiene che dopo quel parto aveva concordato con Rocco che nessuno avrebbe dovuto sapere nulla di ciò che era avvenuto patto che era stata costretta a tradire quando ha parlato con i carabinieri in ospedale detto ciò il PM afferma che Rocco durante il fatto fosse lì presente ha sostenuto fino alla fine un qualcosa che trova inverosimile pur avendo rapporti completi con Laura non si era mai accorto di nulla è un fatto che Rocco abbia cagionato Laura lesioni gravissime con manovre violente e inesperte dunque i due imputati sono colpiegoli di procurato apporto Laura viene assolta mentre Rocco viene condannato a 3 anni e 6 mesi di detenzione in appello Rocco viene assolto non gli viene definito alcun reato infatti secondo i giudici Rocco non si era liberato di nessun borsone il processo dunque si conclude senza colpevoli ma a mio parere si conclude anche senza innocenti di innocente c'è solo quella povera creatura senza nome ora però vorrei parlarvi di alcune cose che a me proprio non sono tornate primo punto Laura stava male e aveva paura di andare dal medico ci può stare si può essere resti a farsi visitare ma ad un certo punto Laura aveva iniziato a vomitare bile a svenire più volte al giorno quindi pur avendo paura dei medici ma perché non ci vai al pronto soccorso non hai più paura di ciò che ti sta accadendo sapete cosa penso io di questa situazione Laura si era recata al pronto soccorso così tardi perché sperava di stare meglio sperava che la situazione si risolvesse da sola in questo modo i suoi genitori e i genitori di Rocco non sarebbero venuti a sapere nulla questa è l'unica spiegazione logica che riesco a trovare altrimenti non mi spiego perché Laura abbia trascurato in tal modo la sua salute punto secondo quando Rocco se ne va con il borsone per poi tornare dicendo ho sistemato tutto tu devi stare zitta perché Laura non si arrabbia a processo dice che voleva mantenere quel bambino quindi perché non si incazza come una iena perché non chiama i carabinieri per denunciare il fatto punto terzo com'è possibile che quattro ore dopo un parto peraltro anche abbastanza drammatico è avvenuto in casa una donna riesca ad alzarsi a camminare a spostarsi senza dar alcun segno di debolezza mi è venuta in mente inoltre un'altra cosa per chiudere il video a quanto pare Rocco Mattia ha fatto sparire dei messaggi più precisamente quelli inviati da lui a Laura mentre ha conservato tutti i messaggi di Laura messaggi in cui sembrava si incolpasse per tutto ma senza i messaggi di Rocco Mattia quei messaggi possono essere malinterpretati possono essere manipolati e se Rocco Mattia prima dello scambio di quei messaggi avesse detto a Laura mi raccomando non mettermi in mezzo e non dire niente per poi chiederle successivamente davvero che cosa avesse detto ai carabinieri quella conversazione in cui Laura scrive in diversi messaggi non sapevo di essere incinta l'ho messo in borsa e l'ho buttato mica mi mettono dentro per quello che ho fatto potrebbero essere interpretati in maniera ben diversa se si potessero leggere i messaggi inviati da Rocco Mattia io me lo sento sempre di più questa era una storia che non doveva uscire allo scoperto ecco perché è accaduto tutto ciò i punti che mi rendono perplessa sono un bel po' per quanto mi riguarda ma fatemi sapere se voi avete delle perplessità per questo caso ma soprattutto quali perplessità avete fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto in un commento detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato di vostro interesse io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao